La lunga e bellissima storia d'amore tra Albano e Romina da sempre riesce a far sognare i fan, e non solo, soprattutto per il modo in cui i due si sono innamorati. Un incontro avvenuto sul set e l'inizio di un sentimento tanto tanto forte che ancora oggi li tiene uniti anche dopo aver preso la decisione di porre la parola fine al loro matrimonio. A tenere banco sul web però troviamo delle dichiarazioni che l'artista americana ha rilasciato proprio sul suo ex marito. Erano gli anni 60 minuti quando Albano e Romina si sono incontrati sul set del film Nel Sole, un colpo di fulmine per due giovani artisti che si affacciavano alla vita e al mondo dello spettacolo. Molte passioni in comune per due ragazzi che venivano sostanzialmente da due mondi differenti. Romina Power figlia di due acclamate stelle di Hollywood, e Albano un giovane artista con un dono che gli ha poi permesso di andare lontano ma che aveva raggiunto Milano per studiare affinché potesse diventare un insegnante, lavorando per mantenere se stesso in toto. L'amore, però, tra loro è scattato nell'immediato, diventato subito travolgente e che li ha poi tenuti uniti per i successivi 30 anni, allora perché Romina Power ha deciso di sparare a zero sul cantante di Cellino San Marco. Gli anni relativi alla separazione tra Albano e Romina hanno fatto discutere le pagine di Cronaca Rosa non solo in Italia, e non solo, dato che con la separazione per la coppia è arrivata anche la fine momentanea del loro duo. Un sodalizio artistico che si è poi ricongiunto solo diversi anni dopo, quando Albano e Romina sono tornati a tendersi davvero la mano mettendo da parte ciò che fino a quel momento li aveva tenuti separati. Superare il divorzio, quindi, non è stato facile ed entrambi gli artisti hanno dovuto imparare fin da subito a lasciare i media sia lontano dalla loro vita familiare che dalla loro arte. Dopo il divorzio, quindi, nonostante alcune difficoltà ancora in atto, Albano e Romina sono tornati a essere una coppia almeno nella musica, quasi fosse un'oasi di pace che ha permesso loro di dare una nuova linfa. La vita per Albano e Romina, dunque, procede per delle strade ormai diverse da quelle di un tempo rimanendo pur sempre una famiglia, cosa che nessuno potrà comunque cambiare. Oggi l'artista di Cellino San Marco è felice al fianco della compagna Loredana Leciso, la quale gli ha fatto il grande dono di diventare ancora padre, mentre Romina Power cerca di essere sempre molto riservata circa la sua vira provata, anche se a oggi sarebbe comunque single. Recentemente, però, Romina Power è tornata a parlare di Albano Carrisi in occasione di una lunga intervista rilasciata di più dove ha fatto la seguente rivelazione. La gente ama vederci assieme, in fondo siamo stati insieme tanti anni. Non ho permesso alla nostra separazione di distruggermi la vita. A pesare sulla rottura definitiva della coppia, anche a livello lavorativo, fu una famosa intervista fatta da Romina nel 2011. Nel corso della trasmissione, Salve in Deluxe, su Tele 5, Romina lanciò pesanti accuse vero Albano. La Power ha infatti dichiarato che Ilenia, la figlia scomparsa, aveva un rigetto completo per Albano, litigavano sempre. Mi diceva. Mamma, te ne devi andare, io un giorno me ne andrò. Ha aggiunto Romina. Se lo contrariavo si arrabbiava, urlava. Era un dittatore. Una volta mi ha dato un calcio. Il cantante di Cellino si era completamento dissociato dalle parole dell'ex moglie. Sono senza parole, è come vedere un'altra persona. Smentisco tutto quello che ha detto Romina.